Zero grumi e crema perfetta Pasqua, tutte le volte che faccio la carbonara non viene mai bella cremosa Sai darmi una mano? Perché no? Penso che preparare e offrire un piatto di carbonara sia la dimostrazione di amore più vera, sincera e buona che possa esistere Però per quanto amore ci possa essere a volte non viene mai come ce l'aspettiamo O è troppo legata, o è troppo liquida, o è grumosa, o non è troppo liscia Oggi voglio spiegarvi per filo e per segno come faccio io per ottenere un risultato che a parer mio è incredibile Trovi la videoricetta completa dove la faremo insieme e ti svelerò tutti i trucchi sul mio canale YouTube